Clusone via libera in consiglio al piano per il diritto allo studio preoccupano le ricadute della denatalità in apertura di seduta l'insediamento del consiglio ragazzi. Punta sulla comunicazione la nuova amministrazione comunale di Ardesio, soprattutto via web e social. Nomi di spicco ad Albino, anche di caratura internazionale, in una due giorni per riflettere sul vivere bene. Verrà affrontato anche il tema delle aree interne. Buonasera, ben trovati con il telegiornale di Antenna 2. Iniziamo questa edizione con la cronaca. Soccorsi in azione nel primo pomeriggio di oggi per un incidente stradale accaduto lungo la statale della Val Borlezza. è successo poco dopo le 13.30 nel tratto che attraversa il centro di Cerete Basso. Un Audi che viaggiava verso Clusone, guidata da una donna di 51 anni, è finita fuoristrada per cause imprecisate, andando a sbattere contro il muro di una casa in corrispondenza dell'incrocio tra via Moschini e via Verdi. Una volta scattato l'allarme, la REU ha inviato sul posto un'ambulanza della Croce Blu di Lovere. Dopo le prime cure, la donna è stata trasportata all'ospedale di Piario, dove è giunta in codice giallo. Cambiamo argomento. Ieri sera il Consiglio Comunale di Clusone ha approvato il piano per il diritto allo studio. Il Consiglio preoccupa il calo demografico e l'amministrazione sta pensando a interventi per le famiglie. La seduta di ieri si è aperta poi con la proclamazione ufficiale del nuovo Consiglio dei Ragazzi. Vediamo. E ora è il momento ufficiale dove il nostro sindaco, Anna Mari, indosserà la fascia. Ecco, così. Perfetto. Bene. Primo Consiglio Comunale di Clusone, insegna del ritorno alla normalità, anche con la presenza dei ragazzi del CCA. Sì, assolutamente. L'anno scorso non si era potuto fare questo importante appuntamento, che è appunto la proclamazione del Consiglio Comunale dei Ragazzi del Comune di Clusone. L'anno scorso, per via della pandemia e delle restrizioni, non si era potuto fare questo appuntamento. Quest'anno, finalmente, ovviamente nel pieno rispetto delle norme, abbiamo potuto accogliere qui i ragazzi che si sono appena approcciati e hanno appunto avuto le elezioni del loro Consiglio Comunale dei Ragazzi. Le abbiamo avuti qui in aula. Abbiamo fatto tutti degli interventi, quindi vari consiglieri del Consiglio Comunale degli Adulti, la sindaca uscente, Anna Andreoletti, e la sindaca entrante, Anna Bani. E quindi a loro veramente tanti, tanti auguri di buon lavoro. Per noi è uno stimolo pensare che poi saranno loro un indomani a venire qui e quindi a ricoprire il nostro ruolo. È una palestra di vita, una palestra di democrazia molto importante che i ragazzi credo e sono sicuro che sapranno cogliere al meglio e quindi veramente ci sono tutti i migliori auspici. Provato il piano di diritto allo studio, tra i temi emersi, il problema legato alla denatalità. Sì, esatto, un piano di diritto allo studio molto ricco, come tutti gli anni del resto. Il Comune di Clusone sta investendo tante risorse a sostegno, quindi, delle scuole di ordine di grado inferiore, così come prevede la normativa. È vero, il fenomeno della denatalità emerge praticamente sempre e spesso alle nostre attenzioni. C'è stato anche questa sera in Consiglio Comunale un importante confronto proprio su questa tematica. Guardando i numeri ci sono degli aspetti veramente preoccupanti. Si sta lavorando in tal senso, quindi l'ambito soprattutto, l'ambito 9 dei servizi sociali, quindi tutti i sindaci dei nostri 24 comuni, della 20 comuni dell'Alta Valle più i 4 comuni della Valle di Scalve sono incentrati tra le varie tematiche anche sul problema della denatalità. Sarà un problema che riguarderà poi tutti gli aspetti sociali ed economici del nostro territorio perché quando vengono meno i numeri e quindi i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole, che fanno parte delle associazioni, quindi capite bene che i problemi veramente sono tanti. Adesso il Comune di Clusone si sta anche indirettamente impegnando, stiamo aderendo al network family, quello delle famiglie, quindi si punta a dare un sostegno proprio al fatto che una famiglia, una donna, possa comunque essere nelle condizioni di poter mettere al mondo dei figli serenamente e non preoccuparsi invece di questioni economiche e sociali che quindi devono essere superate per forza. Stoccata della minoranza sulla convocazione della riunione dei capigruppo. Sì, l'unione dei capigruppo si era persa un po' l'abitudine di farla, soprattutto negli anni scorsi. Poi l'anno scorso avevamo ricominciato col nuovo Consiglio Comunale. Negli ultimi consigli effettivamente non si era più tenuta. Ovviamente da parte mia ho manifestato e ho comunicato ai consiglieri che c'è massima disponibilità all'ascolto e al confronto, anzi, massima disponibilità al fatto che qui il lavoro da fare è veramente tanto e quindi avere anche il supporto, il sostegno, il confronto. Perché no, il confronto ma anche in termini critici ma in termini positivi da parte dei consiglieri di minoranza per noi è importante, quindi da parte reciproca c'è questo impegno quindi ad aumentare le possibilità e i momenti di incontro. Ci spostiamo ad Ardesio dove la nuova amministrazione comunale punta su web e social per tenere informati i cittadini. Ne abbiamo parlato con il vice sindaco Simone Bonetti. Si è insediata da circa un mese la nuova amministrazione comunale di Ardesio e già ci sono delle novità dal punto di vista della comunicazione. Quali novità? Allora assolutamente era un tema che era molto sentito in paese, un tema molto anche sentito da parte del nostro gruppo perché riteniamo la comunicazione e l'informazione diretta verso i nostri cittadini una delle cose più importanti da tenere sempre in considerazione perché ovviamente in un comune ci sono tanti temi che si possono trattare però il magari scoprire che la gente non era venuta a conoscenza di questa dinamica, di questo problema, di questa opportunità che il paese e il comune dà a disposizione. Ci sembrava doveroso da subito intervenire da un punto di vista comunicativo e da questo punto di vista è nata subito, appena insediati, abbiamo fatto nascere la pagina Facebook del comune di Ardesio perché ovviamente affiancato al nuovo sito internet che il comune ha lanciato proprio i primi giorni di ottobre e qui devo ringraziare anche annunciata dei dipendenti del comune perché ha fatto un lavoro davvero molto molto importante, un lavoro incredibile di ristrutturazione del sito internet comunale e il sito nuovo è davvero uno strumento molto molto aggiornato e dal quale ogni cittadino può ovviamente trovare le informazioni più importanti. Affiancato al sito internet abbiamo un'app, siamo riusciti ad inserirci nel circuito dell'app MyCity quindi entrando su questa app, scaricandola sul proprio telefono si ha la possibilità poi di scegliere il paese di Ardesio e ovviamente c'è la possibilità di rimanere totalmente aggiornati delle dinamiche e delle comunicazioni che il comune lancia sul proprio sito, praticamente arrivano delle notifiche come un'app qualsiasi che ti dice che è stato pubblicato qualcosa e quindi il cittadino può andare a vedere quel qualcosa e poi ci sembrava per diciamo cercare di raggiungere anche un pubblico un pochettino più giovane ci sembrava doveroso aprire anche la pagina facebook ufficiale del comune di Ardesio quindi non legata ad un gruppo o a una lista ma la pagina facebook ufficiale della nostra amministrazione, del nostro comune e quindi anche questo è una novità importante quindi invito tutti per chi ha facebook ovviamente a mettere mi piace alla pagina del comune e da lì poter rimanere sempre aggiornati la comunicazione è importante come dicevamo perché ci permette di raggiungere tutti i cittadini non ci fermiamo qui, stiamo studiando altre forme di comunicazione ovviamente l'abbiamo detto che cercheremo di fare anche tante assemblee pubbliche perché ovviamente anche chi non ha i social, chi non ha la possibilità di usare questi strumenti deve essere costantemente aggiornato e quindi cercheremo sempre di arrivare da tutti i cittadini Tra le deleghe di Simone Bonetti c'è anche lo sport e anche qui c'è una novità Sì, allora lo sport abbiamo cercato innanzitutto visto che le elezioni sono state i primi di ottobre di cercare di dare la possibilità alle associazioni sportive di iniziare al migliore dei modi la propria stagione diciamo agonistica e quindi mettere tutte le risorse possibili anche da un punto di vista di risorse umane nostre nel cercare di far partire tutte le iniziative legate allo sport però c'è anche una piacevole novità, grazie all'interessamento dei nostri delegati allo sport è arrivata l'idea di provare a fare un corso legato allo sport del tennis e devo dire che c'è stata una partecipazione molto sentita da parte dei genitori, dei bambini di Ardesio perché abbiamo ben 17 bambini iscritti e quindi davvero è stata una piacevole scoperta sapere che lo sport del tennis era probabilmente uno dei tasselli che mancava nel panorama delle attività sportive che i bambini di Ardesio possono svolgere questo corso è all'inizio, stiamo partendo e quindi siamo molto soddisfatti anche da questo punto di vista e adesso la viabilità, una notte di chiusura per la galleria Montenegrone lungo la statale 671 della Valle Seriana ANAS ha infatti programmato un intervento di manutenzione dei presidi antincendio per consentire lo svolgimento dei lavori la statale sarà chiusa al traffico in direzione Nembro tra lo svincolo di Pedrengo e l'intersezione con la provinciale 35 la chiusura è programmata dalle 21 di domani 11 novembre fino alle 5 del giorno successivo durante le ore di chiusura il traffico veicolare sarà deviato sulla viabilità comunale all'interno dei comuni di Villa di Serio Nembro, Scanzorosciate e Pedrengo Cambiamo argomento We Light Food alla scoperta delle tradizioni artistiche e gastronomiche della Valle Seriana Val di Scalve 4x4 4 comuni per tutte le stagioni e Cammino Bergamo-Brescia valorizzazione del territorio bergamasco sono i nomi dei progetti per itinerari turistici che coinvolgono il nostro territorio premiati dalla regione sentiamo Vladimir Lazzarini Sono 13 i progetti che potranno beneficiare di un contributo regionale di 1,16 milioni di euro per promuovere itinerari turistici che si snodano tra le principali città lombarde e le destinazioni fuori porta ce ne sono alcuni che coinvolgono Val Seriana, Sebino e Valle di Scalve L'assessora regionale al turismo, Lara Magoni, presentando gli esiti del bando Viaggio in Lombardia sottolinea che la regione continua a sostenere concretamente il turismo dei territori con una misura particolarmente apprezzata Il bando, giunto alla terza edizione, mira la valorizzazione delle eccellenze locali dai piccoli borghi alle città unendo luoghi ed itinerari per far scoprire ai visitatori tradizioni, sapori, arte e cultura di una Lombardia che rinasce anche grazie alle sue bellezze Pensando a eventi come Bergamo e Brescia, capitale italiana della cultura 2023 e i giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026 dobbiamo favorire la nascita e la condivisione di buone pratiche nell'ambito della ricettività e dell'offerta turistica per una Lombardia da vivere sempre tutto l'anno Sul nostro sito myvalley.it è pubblicato l'elenco dei progetti ammessi in provincia di Bergamo con relativo finanziamento E adesso la situazione coronavirus in Lombardia con 97.961 tamponi effettuati sono 1.073 i nuovi positivi un tasso dell'1% ieri era dello 0,5% i nuovi casi in provincia di Bergamo sono 70 in provincia di Brescia 122 i ricoverati in terapia intensiva scendono a 42 5 in meno di ieri continuano a salire invece i ricoverati nei reparti e toccano quota 402 23 in più di ieri 5 i decessi ieri erano stati 4 Cambiamo argomento ricomincia il tempo degli open day per le scuole del nostro territorio due gli appuntamenti al Vest di Clusone sentiamo Il Vest di Clusone torna a presentare la sua offerta ma anche ad aprire le sue porte Sì, finalmente possiamo tornare ad incontrarci in presenza questa è la prima grande notizia i nostri due open day che si terranno questo sabato 13 novembre e venerdì 10 dicembre tornano ad essere dei momenti di incontro in presenza dove la scuola si fa conoscere ma soprattutto vede e conosce le famiglie interessate al nostro progetto educativo Cosa caratterizza il vostro modo di fare scuola? Ecco, quello che ci caratterizza e che racconteremo durante gli open day si può sintetizzare in questa formula ai ragazzi ciò che ci preme poter dire è tu sei un bene in tre anni che scoprano il loro valore e in secondo luogo che la realtà è un bene è un bene è un bello da scoprire insieme in questo affascinante percorso e da ultimo le famiglie poter dire non siete sole vogliamo con voi accompagnarci nel grande compito educativo Un open day è anche l'occasione per respirare l'atmosfera e per visitare gli spazi Esatto, sarà l'occasione di conoscere la scuola di poter anche godere degli spazi che da qualche anno sono a nostra disposizione come il parco un nuovo campetto esterno insomma di poter incontrare la realtà scolastica del Vesta a 360 gradi vi aspettiamo Vivere bene una domanda politica ruotano attorno a questo tema gli appuntamenti in programma venerdì e sabato ad Albino due giorni per un'ampia riflessione che coinvolge anche il tema delle aree interne Il 12 e 13 novembre venerdì e sabato ad Albino al monastero della Ripa una a due giorni con nomi molto importanti della cultura italiana e non solo lo specifichiamo da subito qual è l'obiettivo di questi appuntamenti Sì, grazie buongiorno a tutti sono come presidente della cooperativa sociale La Fenice che è uno tra i promotori di questo evento da sempre sono impegnato siamo impegnati a fare del monastero della Ripa un luogo di pensiero luogo di pensiero però che non vuole essere qualcosa di estemporaneo e tanto meno di accademico un luogo di pensiero in cui le cose che accadono le cose che noi facciamo hanno delle ricadute e si alimentano della vita delle persone e delle comunità L'obiettivo di questa di queste due giorni è quello di avviare qualcosa che vogliamo che si ripeta è un'edizione zero di una serie di iniziative che tutti gli anni noi vogliamo proporre e che mette al centro un tema di grandissima rilevanza quale è quello che abbiamo provato a sintetizzare con l'espressione vivere bene un vivere bene che poi come avremo modo di vedere nella due giorni è tutt'altro che banale non è questione individuale ma richiede molti sguardi molte attenzioni quindi l'obiettivo è diamoci un appuntamento che ritorni aiutiamoci come valle che è certo una valle molto importante nel tessuto italiano europeo e non solo diamoci il compito anche di accompagnare la nostra forza sul piano economico e sociale anche con una forza di pensiero allora in questa edizione zero facciamo due operazioni da una parte naturalmente esploriamo il tema generale delle prossime edizioni che già dicevo è il viver bene una questione politica una domanda politica nello specifico della edizione zero che si realizza in questi giorni vogliamo mettere a fuoco il tema dello sviluppo locale intrecciato anche sugli sviluppi di carattere sulle tendenze di carattere generale sulle cornici sugli scenari la valle seriana è uno degli esempi in cui un luogo ha bisogno di riflettere per perseguire uno sviluppo che sia tale Papa Francesco parla di sviluppo integrale in cui c'è una componente certamente economica di crescita ma c'è anche una componente sociale c'è anche una componente ambientale di giustizia che non può essere dimenticata proveremo a riflettere quindi sia analizzando quel che succede nella nostra valle seriana e da questo punto di vista basta vedere che tra i promotori c'è la comunità montana che sta lavorando molto sul tema delle aree interne anche utilizzando chiavi innovative ma lavoreremo con uno sguardo ampio garantito da una parte prestigiosa come quella della casa editrice in mulino che saprà certamente aiutare a tenere uno sguardo come possiamo dire anche un po' strabico e integrato perché ciò che noi costruiamo su un territorio oggi non può naturalmente non può naturalmente prescindere da quello che succede a livello globale come verrà dunque affrontato questo tema nella due giorni allora in coerenza con quello che dicevo di una visione per la quale è lo sviluppo in senso complesso completo articolato che noi consideriamo proporremo sguardi diversi chi verrà potrà ascoltare filosofi potrà ascoltare studiosi dell'economia territoriale studiosi di urbanistica molto importante il tema dello spazio economisti potrà ascoltare studiosi delle scienze politiche la sera poi abbiamo anche introdotto un linguaggio artistico teatrale il venerdì sera verrà il work center di Ponte d'Era siamo nell'eredità diretta di Grottoschi quindi un teatro di altissimo livello e sabato sera ci sarà un altro concerto perché anche l'arte e la cultura hanno da dire hanno da contribuire quando si parla di vivere bene e quando si parla di sviluppo locale inteso come l'abbiamo descritto manca circa un mese alla notte di Santa Lucia e a Valbondione a partire da domenica sono in programma appuntamenti per prepararsi al suo arrivo vediamo a Valbondione nelle prossime domeniche sarà possibile incontrare Santa Lucia quale iniziativa avete ideato in particolar modo per i bambini e le famiglie ebbene sì la Santa Lucia ha deciso di farci compagnia le prossime domeniche quindi il 14 il 21 il 28 novembre e il 5 il 12 dicembre prima della sua notte impegnata di regali passerà in biblioteca Valbondione ci sarà un laboratorio per preparare le letterine per accendere la candela per preparare da mangiare per il suo asinello e poi i bambini potranno incontrarla così da consegnare direttamente i loro desideri alla Santa Lucia e per mangiarsi anche un po' di cioccolato insieme come si partecipa? allora per partecipare bisogna prenotare allo 0346 44665 o tramite e-mail infochiocciolaturismovalbondione.it entro il venerdì prima della domenica che avete scelto per gli adulti è richiesto il Green Pass per l'accesso in biblioteca mentre i bambini possono accedere liberamente fino agli 11 anni il costo è di 5 euro per ogni bambino e vi aspettiamo per divertirci un po' con la Santa Lucia e questa sera su Antenna 2 torna la nostra trasmissione dedicata all'attività della Regione sentiamo Andrea Filisetti questa sera torna l'appuntamento con Mai Regione spazio di Antenna 2 TV dedicato alle attività della Giunta e del Consiglio regionale Lombardo tra i temi la riforma della sanità da mercoledì 10 novembre al 26 novembre la maratona del Consiglio regionale dedicata all'esame e alla discussione del progetto di legge di riforma della sanità lombarda che modifica la legge numero 33 del 2009 gli aggiornamenti dal capogruppo della Lega Roberto Anelli e dal consigliere del Partito Democratico Jacopo Scandella l'apertura dei bandi relativi al piano di sviluppo rurale di transizione un provvedimento dal valore complessivo di 400 milioni di euro per il biennio 2021-2022 il punto con l'assessore all'agricoltura alimentazione e sistemi verdi Fabio Rolfi edizione 2020-2021 del premio internazionale Lombardia e ricerca conferito il riconoscimento promosso da Regione Lombardia che assegna un milione di euro alla migliore scoperta scientifica nell'ambito delle scienze della vita ma in Regione andrà in onda questa sera a mercoledì 10 novembre alle ore 20 e 30 sul canale 88 delle digitali terrestre le repliche giovedì alle 14 e venerdì alle 23 e 15 Apriamo adesso la nostra pagina degli auguri perché oggi è il compleanno di Elena Lazzarini DJ di Radio Like e anche conduttrice di 20.000 giri su Antenna 2 Ad Elena tanti auguri da parte del papà Vladimir della mamma Laura del fratello Roberto e naturalmente anche da parte di tutto lo staff di Antenna 2 e Radio Like e adesso i programmi su Antenna 2 iniziamo dal canale 88 questa sera alle 20 e 10 l'Alpino il notiziario dell'Associazione Nazionale Alpini alle 20 e 30 Mai Regione alle 21 e 30 lo sport con Hard Track alle 22 più Salute News alle 22 e 30 la seconda edizione del telegiornale alle 23 15 Antenna 2 Sport il canale News 21 e 21 e 18 alle 21 e 30 il nostro TG alle 22 e 10 l'anteprima Target questa sera un servizio dedicato alle novità del servizio di polizia locale sul territorio dell'Unione Comuni della Presolana e di Rovetta il canale sportivo 628 alle 20 e 30 Antenna 2 Sport alle 21 e 30 una partita di calcio Vertovese Lemine Almenno e chiudiamo con l'Almanacco domani giovedì 11 novembre il sole sorge alle 7 e 10 e tramonta alle 16 e 59 la luna è al primo quarto sorge alle 13 e 59 e tramonta alle 23 e 31 la chiesa ricorda San Martino di Tur e per questa nostra edizione è tutto grazie per averci seguito vi ricordo dopo il TG l'appuntamento con la nostra rubrica classica ma non troppo e con le previsioni del tempo buona serata grazie a tutti